Ciao ragazzi Ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi dopo una bella live, anzi doppia live che abbiamo fatto su Assetto Corsa voglio provare alcune, diciamo, features di Assetto Corsa Competizione e scoprirle insieme a voi e cercare di analizzarle quindi iniziamo subito Allora ragazzi andiamo subito a vedere le impostazioni, vediamo video, io ho messo 5760x1080 praticamente c'è la scelta quando si avvia da sim di avviare senza HMD se non sbaglio che dà la possibilità appunto della gestione del triple screen quando si è in gara, cioè quando si sta guidando diciamo che ho praticamente gli effetti a livello grafici praticamente quasi a tutto ultra o alto vi ricordo che io ho una GTX 1070 della Nvidia e devo dire che non si comporta affatto male una cosa che mi ha un po' lasciato perplesso è quello che è lo sfruttamento del processore in cui tende un po' a scaldare e soprattutto anche la scheda grafica, beh, soprattutto quando si gioca in triple screen io partirei subito con una sessione di pratica, una bella Lexus mi piace tanto e andiamo in condizioni normali, non andiamo ad esagerare troppo ragazzi eh e così vi do gli effetti, le sensazioni che ho sia in termini grafici che comunque già di base sono molto molto interessanti la scarichiamo un po' con il livello di peso e portiamo, proviamo allora, queste qua sono le impostazioni che troviamo praticamente di base ho abbassato la risoluzione degli specchietti perché non mi interessa tanto in questo frangente qua che si vede e analizzando a livello grafico mi pare che non sia troppo male le impostazioni che ho scelto io mi pare che sia abbastanza ben allineato, quindi proviamo ad andare eccolo qua allora, la media degli FPS è in questo momento praticamente tra i 54 e i 56 senza meteo, diciamo, tempeste o d'altro e con una sola macchina quindi adesso siamo ai 60, poi bisognerebbe fare la prova con delle macchine e con un meteo, una meteo diciamo un po' più impegnativa le sensazioni di guida, come dicevo nelle live, sono sicuramente molto molto interessanti si ha molto più dettaglio, diciamo, al volante rispetto alla versione precedente di Assetto Corsa anche se, per essere onesti, ci sono alcune delle auto che hanno delle fisiche probabilmente da rivedere un'altra cosa che ho notato da subito è che le auto hanno la tendenza a girarsi a volte senza nessun motivo adesso sarà forse la mia impressione, o io che sono scarso però ho avuto molti riscontri anche da alcuni di voi che mi hanno seguito nelle live un altro problema su questa versione 1.0 che esce quindi dalla Early Access è il problema di parecchi errori o problemi a volte basta guardare un replay, ad esempio, che ho trovato io mettersi nella visuale elicottero e ci si ritrova pur cambiando visuale lo stesso audio della visuale elicottero ha la tendenza a crashare tantissimo in varie occasioni, senza spiegazioni, motivi particolari e online ho notato un netcode che è veramente da rivedere cioè ci sono dei server con dei ping altissimi anche se comunque si ha la possibilità di creare server personalizzati senza particolari problemi ovviamente questa è una versione acerba di assetto forza competizione anche se vorremmo che i prodotti fossero quantomeno perfetti ma oggigiorno ragazzi purtroppo le software house ci hanno abituato che purtroppo amano continuare lo sviluppo dopo aver fatto uscire il gioco allora io noto nella versione triple screen e lo noto sempre di più una mancanza di dettaglio raffinato diciamo nello schermo centrale a livello di dettaglio qui sotto si vedeva non so se potete apprezzarlo con quella visuale che ho visto con la telecamera però si nota che manca un pochino di dettaglio per quanto riguarda il feeling con la macchina devo dire che questa è una delle mie preferite è quella che si guida in modo più facile a livello di sound che ve lo dico a fare ragazzi mi pare che assetto forza competizione sia comunque contraddistinto no? e una cosa molto interessante da farvi vedere è questo ve lo lascio apprezzare perché è veramente carino cioè rende molto molto bene nel replay proprio questa mancanza di dettaglio non c'è rispetto diciamo a quando guido adesso probabilmente sarà una impostazione grafica mia non lo so però è molto molto bello il replay possiamo anche cambiare il visuale il visuale dell'elicottero mi fa impazzire proprio ragazzi guardate che bello è fatto veramente bene con l'audio dell'elicottero anche i comportamenti della macchina sembrano comunque sinceri chiamiamoli così nel senso che hanno studiato molto il comportamento fisico adesso vorrei provare e proverò sicuramente il gioco con il podium quando arriva con un direct drive probabilmente avrò altre impressioni a livello di quelle che sono le sensazioni al volante ragazzi comunque devo dire che hanno fatto un bel lavoro anche se ci sono parecchie cose da rivedere per cercare di affinarlo questo gioco perché è un bel gioco io direi di andare a spremere un pochettino questo triple screen ragazzi perché adesso proviamo a fare una gara con qualche macchinina in più e vediamo che succede un'etro non che so che sono la stai da via l'ho funzetto non c'è adesso non 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 è gestita male ragazzi mamma mia che attacco interno bravo e fa prima fuori allora in conclusione ragazzi di queste prime impressioni quello che apprezzo tanto di assetto forza compitizione senza ombra di dubbio l'audio, il sound che è curato molto molto bene il dettaglio grafico perché quando si riesce ad impostare come si deve che sia in triple screen o single screen ma anche in VR rende veramente molto bene a livello della fisica ovviamente non mi posso permettere oggi di dare un giudizio perché l'ho testato poco e quindi sono veramente le first impression cioè le prime impressioni realmente di primo occhitto anche se ci sono parecchi problemi in termini di stabilità che devono essere risolti il netcode secondo me potrebbe essere rivisto e probabilmente i server non sono ancora ottimizzati perché come vi dicevo ci sono dei ping abbastanza alti è ovvio che anche se hanno lavorato da inizio cioè anche se la prima release è stata rilasciata a settembre fino ad adesso penso che si siano concentrati sull'ottimizzazione del motore grafico che sembra reggere meglio in termini di frame per secondo ma anche per quanto riguarda diciamo i contenuti perché comunque sono uscite altre auto proprio con la versione finale ci sono tantissimi dettagli da rivedere tantissimi errori da sistemare però diciamo che sono sulla buona strada spero che possono presentare altri contenuti oltre alla Black Pain qualche altra cosa interessante perché comunque questo gioco ha del potenziale io vi rimando sicuramente ad un altro video più approfondito con diciamo una recensione più approfondita un'opinione diciamo più dettagliata perché ovviamente ha due o tre giorni dalla sua uscita il tempo è poco per poterlo testare come si deve quindi ragazzi vi invito a lasciare un pollice di su se questo video in triplo screen vi è piaciuto lasciate un commento ditemi cosa ne pensate quali sono magari le problematiche che avete trovato le aspettative che avete da questo assetto forse competizione iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto tanto è gratuito attivate la campanellina per essere notificati ogni qualvolta pubblico un video noi ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto ciao 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 ciao